Il tempo stringe, Weir. Vendi il casino o ce lo prenderemo. Bella chiacchierata. Ehi! Ti sei divertito, Tyler? Senti, non è il momento. Decido io quando fare una mossa. Sono passati sei mesi. Scendi. E se trovo anche solo un graffietto, ti sbatto in servizio al camion dei rifiuti. A domani, campione! Ok, Tai. Si va a casa. Ah, è tempo di arrivare a casa e potrò togliermi questi vestiti. Tyler. Ehi, brutte notizie. Il capo ti riduce la paga. C'è un graffio sulla F-Type che hai guidato ieri. Cosa? Io non ho danneggiato la tua macchina. Non faccio io le regole. Dammi una mano, amico. Ho due mesi di affitto arretrato. Ehi, mi credi ricco? Lo so, le chiappe marchiate Porsche. Affari tuoi, bello. Pensaci tu. Ah! Buongiorno, piloti. Sono la curatrice. E state ascoltando la voce delle strade. In diretta streaming dai recessi di Fortune Valley. Le strade stanno chiamando. Ora sono piene di pendolari stanchi e stravolti. Ma voi non siete come loro, vero? Voi siete piloti? Chi di voi domerà questa città? Chi di voi saprà reggere l'adrenalina? Pensate di farcela? È l'ora della velocità. Il rush dei banditi arriva a Fortune Valley. Solo i migliori potranno partecipare. Solo il migliore potrà vincere. Sarai tu? Il rush dei banditi. Già, come no. Non posso continuare così. Dovrei essere là fuori ad affrontare navali. Con lo scommettitore sarei potente. Sono Tai. A proposito...